Il Movimento Agricolo Molisano insorge contro la proposta di legge di riforma dei consorsi di bonifica presentata dall'assessore all'agricoltura Vittorino Facciolla. Un provvedimento che ha denunciato il segretario del Movimento, Domenico Zeoli, rappresenta una vera e propria beffa perché non affronta il problema del riordino dei consorsi di bonifica ma si limita a sopprimere due enti, quelli di Termoli e Larino, al posto dei quali nascerebbe il consorzio di bonifica del Basso Molise e nel quale conferirebbero i debiti accumulati negli anni più che il patrimonio. In questo modo la denuncia del Movimento Agricolo non vengono affrontati i nodi che hanno portato al trocollo della bonifica dell'irrigazione nel Basso Molise, i costi elevati dell'acqua e dell'energia per il pompaggio delle acque ma, come spesso accade, alla beffa si aggiunge anche il danno del caso dei consorziati che dovranno pagare di tasca propria i debiti dei consorsi soprattutto legati ai mancati trasferimenti regionali. Visto che la proposta di legge elaborata dall'assessorato non contiene nessuna misura economica e finanziaria impattante su bilancio regionale e la precisazione di Zeoli sarebbe interessante chiedere all'assessore Facciolla il motivo per il quale ha deciso di collegare il destino del provvedimento a quello del bilancio regionale. Forse per blindare la sua riforma ha aggiunto velocizzando e rendendo snella l'approvazione a riparo da qualsiasi esame preventivo da parte delle commissioni consigliari. Il movimento agricolo molisano chiede dunque all'assessore Facciolla di non fare campagna elettorale sulla pelle dei consorziati e invita l'intero consiglio regionale a non approvare la riforma per consentire il recepimento delle osservazioni al testo di legge fatte per venire sul tavolo dell'assessore.